Ciao a tutti amici, bentornati su Dite la vostra che io dico la mia, parliamo ancora del Ministro della Cultura San Giuliano. Mi dispiace essere tedioso e affrontare sempre l'argomento, ma ogni minuto esce una notizia riguardo allo scandalo che lo sta travolgendo come uno tsunami. Uno tsunami che potrebbe addirittura riverberarsi se non viene fermato per tempo sull'intero governo, perché qui il silenzio del Ministro la dice tutta. E allora, prima cosa, il Ministro deve dare le spiegazioni. Chi è Maria Rosaria Boccia? Che ruolo ha avuto? Come mai ha avuto documenti riservati che potevano essere dati solo a chi ovviamente un ruolo ce l'ha? E perché continua a stare in silenzio rispetto a questa cosa? Ripeto, se il Ministro non dovesse parlare, e tra l'altro se dovesse continuare così, personalmente penso che tempo 48 ore dovrebbe dare le dimissioni, potrebbe l'intero affair riverberarsi sul governo Meloni. A questo punto Giorgia Meloni sarà costretta ad intervenire direttamente. Forse però non tutti i mali vengono per nuocere, l'ho già detto in precedenza. Io penso sia necessario, un tagliando di metà mandato, un rimpasto per dare al governo più forza di azione. E visto questi casi, visto il caso San Giuliano e visto che il Ministro Fitto quasi sicuramente farà parte della Commissione europea, può essere l'occasione buona per un rimpasto. Nel frattempo il governo però si deve concentrare nel risolvere la patata bollente San Giuliano, che a questo punto diventa troppo ingombrante. Ripeto, il silenzio fa solo male. Voi dite la vostra nei commenti, che come al solito io ho detto la mia, e ci vediamo domani.